Romina Power rivuole Albano, ecco come lo tolgo a Loredana. Solo questione di tempo. Cos'è successo tra noi fan in delirio? Se da un lato Albano Carrisi rimarca sempre il suo amore per Loredana Lecciso, dall'altro lato Romina Power sembra essere convinta che il famoso cantante provi ancora un sentimento per lei. E non ne fa alcun mistero, mostrando così di non portare rispetto per la nuova compagna del suo ex marito. Si è venuta a creare una situazione molto difficile a Cellino San Marco, i tre convivono nella stessa tenuta, ma le due donne non si possono sopportare. E l'uomo, che si trova al centro, ha deciso di condividere la vita sentimentale con una quella lavorativa con l'altra. Ma sarà sempre così? O Romina Power riuscirà a fare nuovamente breccia nel cuore di Albano Carrisi, togliendolo così a Loredana Lecciso? Lei sembra essere molto fiduciosa al riguardo, lui mi ama ancora, io penso di sì. Se vivi con una persona per 30 anni rimane sempre un collegamento, quell'amore è rimasto sempre. E anch'io lo amo, ha rivelato l'americana in una intervista a Verissimo nel 2020. Lei è una donna decisa combattiva, che non fa mistero delle sue ambizioni e adesso il suo obiettivo sembra essere proprio il cantante che si ritrova a dover difendere la sua attuale relazione.